A Edoardo Lucarelli, Edoardo ciao, 30 anni fa, 12 settembre del 1993, Lisa Claps, una ragazza di 16 anni, è entrata nella sua parrocchia, la chiesa della Santissima Trinità Potenza, e non è più uscita. Per 17 anni il suo corpo è rimasto abbandonato nella soffitta della parrocchia, i suoi resi sono stati scoperti solo il 17 marzo del 2010. Per la morte di questa ragazza è stato condannato a 30 anni di carcere, Danilo Restivo, un ragazzo che si era imbaguito di lei. E oggi, in occasione dei 30 anni della scomparsa di Lisa Claps, una lunga marcia, poi il sindaco di Potenza, Mario Guarente, ha disposto che i palazzi municipali espongano la bandiera del comune a Mezzasta. A te Edoardo. Eccoci, eccoci l'onora, buongiorno. Allora siamo qui proprio sotto casa dei Claps, sotto casa di Elisa, insieme a Gildo, al fratello, che questa battaglia la sta facendo da 30 anni, perché voi avete sempre detto la verità piena non è mai arrivata. Ed oggi, che è una giornata di dolore ma anche emozionante, ci sarà questa camminata simbolica fin verso la Chiesa della Santissima Trinità. Quali sono le tue emozioni adesso, a pochi minuti dalla partenza? Beh, si sente il peso di questi 30 anni, Edoardo, come hai ricordato, di lotta alla ricerca della verità. È stato un cammino difficile, accidentato, spesso difficoltoso. Oggi però, innanzitutto, la giornata della memoria di Elisa, come abbiamo avuto modo di dire, la riportiamo alla luce dopo 30 anni in cui è stata relegata in quel sottotetto. È uno sforzo che stiamo facendo, non è semplice, questa è solo una delle tante iniziative di questa giornata. Altri, invece, faticano a fare, evidentemente, questo passaggio che ritengo sia fondamentale, sia rispetto alla restituzione di una verità piena e sia soprattutto come atto di pacificazione in una città che è rimasta profondamente ferita da questa vicenda. E poi c'è una cosa che caratterizzerà la mattinata, quindi, diciamo, la camminata che faremo adesso, perché nel corso di questa camminata voi vi porrete tante domande, le stesse domande che volete rivolgere ancora alla magistratura potentina, alla Curia, perché troppe domande sono rimaste senza una risposta nel corso di questi 30 anni. Non c'è dubbio che le ombre su questa vicenda restano tante, l'abbiamo evidenziato in questi anni, l'abbiamo denunciato all'alba del ritrovamento perché è parso subito evidente che dalle risultanze delle investigative e dalla logica conseguenziale dei fatti che non poteva essere quello il primo ritrovamento, quello del 17 marzo del 2010, sicuramente attendono ancora risposta alcuni passaggi dell'allora magistrato che conduceva le indagini, come il mancato sequestro degli abiti di restivo, la mancata acquisizione dei tabulati telefonici. Le domande sono tante, ma alla fine i risvolti giudiziari ovviamente sono terminati, su questo caso non c'è più in piedi nessuna indagine. In realtà, Edoardo, quello che chiediamo è sicuramente la restituzione in qualche misura della verità al di là di quella giudiziaria, di una verità che è mancata in questi anni, che è stata nascosta dai tanti silenzi e dalle colpevoli omissioni. Eleonora, l'ultima per me perché so che Gildo ci tiene, tu l'hai definita un'altra ferita, l'hanno riaperta un po' come i ladri, il 24 agosto quella chiesa è stata riaperta, voi non c'eravate, avevate chiesto più volte che non venisse riaperta al culto. Ma più che non venisse riaperta, in realtà volevamo anche noi chiudere questa pagina dolorosissima e quindi un passo avanti per quanto ci riguarda l'avevamo fatto, nel senso che avevamo chiesto semplicemente un'assunzione di responsabilità da parte del clero potentino per il passato, cioè per gli anni che hanno preceduto il ritrovamento e poi per i mesi seguenti al ritrovamento, quello che ci dicevamo prima, le troppe bugie, le troppe menzogne e che chiedessero finalmente scusa prima di tutto alla famiglia e poi a un'intera comunità. Non c'è stata nemmeno questa, c'è stata la protervia, ancora una volta l'arroganza di aprire la chiesa, come ha avuto modo di dire, come ladri in silenzio, come ladri di memoria e di verità lo sono stati in questi anni. Intanto lì nello studio di Leonora, nel frattempo lo microfoniamo se volete. Sì, ok, intanto raccontiamo attraverso questo pezzo, tutta questa vicenda, questi lunghi anni. Buongiorno Massimo Lugli, ciao, grazie di essere qui, che ha seguito poi tutto questo caso di cronaca. Ascoltate. La verità, perché Elisa dall'altro mondo vuole la verità. Potenza, 17 marzo 2010. Tre operai salgono sul tetto della chiesa della Santissima Trinità per cercare l'origine di una infiltrazione d'acqua. Durante l'ispezione, uno di loro rinviene in un angolo del sottotetto, tra rifiuti e calcinacci, ma piuttosto in vista, i resti di un corpo umano. È il corpo di Elisa Claps. L'ultima volta che suo fratello Gildo ha visto Elisa, lei era ancora un'adolescente dai lunghi capelli castani. Sotto al corpo di sua sorella si sono svolte funzioni religiose, celebrati matrimoni, presenziati funerali cittadini. Ho avuto dei momenti di scoraggiamento perché lottare contro la chiesa è stata una lotta difficile. È un corpo che parla, subito, quello di Elisa. Racconta 17 anni di attese e dolore da parte della famiglia, di sua madre Filomena, cattolica devota, di suo fratello Gildo, che nelle prime ore dopo la scomparsa stava già affrontando faccia a faccia il responsabile dell'omicidio, di cui c'è traccia del suo DNA sul maglioncino con cui Elisa è stata ritrovata. E soprattutto racconta il silenzio di una città colpevole, perché l'assassino di Elisa ha un nome, Danilo, e un cognome importante, Restivo. E avrebbe potuto essere fermato se qualcosa, il pudore e qualcuno, una famiglia troppo protettiva, non avesse ostacolato da subito le indagini su di lui. Così i resti rimangono in quel sottotetto, apparentemente nascosto, ma in realtà sotto gli occhi di molti. Quel luogo, infatti, è frequentato da amanti segreti, nel silenzio di un luogo consacrato. E nessuno tra loro vuole farsi domande su quello che vede. Nemmeno Don Domenico Sabia, deceduto nel 2008, che non avrebbe mai permesso di ispezionare i locali della chiesa, così come il suo successore e le domestiche, che quasi certamente si sono imbattute negli anni nei resti abbandonati della ragazza. Ma quella mattina del 12 settembre 1993, Elisa ha 16 anni e Danilo, già da tutti conosciuto come un ragazzo problematico, la invita a seguirlo in chiesa per pregare insieme. Nove coltellate alle spalle, tre al resto del corpo, l'ultima immagine prima della morte, gli occhi del suo assassino. Poi, 17 anni di silenzio e molte verità sepolte insieme al corpo di Elisa. Edoardo, so che Gildo deve andare via, per cui se vuoi fargli l'ultima domanda. Beh sì, allora, ovviamente la domanda riguarda i prossimi passi, quello che chiedete, perché questa è un'altra giornata importante in cui si ricorda alla gente cosa è successo ad Elisa, ma non deve rimanere solo questo. Ci sono altre istanze che voi volete fare e a chi? Ma è quello di cui parlavamo prima. Io credo che sia paradossale che quella chiesa resti aperta in quel modo. Non hanno semplicemente spalangato le porte, la gente entra, la maggior parte, quei pochi, perché devo dire la verità, la città sta rispondendo con una solidarietà straordinaria nei confronti della famiglia, perché io ho invitato a non entrare in quella chiesa. E hai fatto anche una proposta, no? A proposito dell'utilizzo di quella chiesa. Ma ne abbiamo fatte tante in questi anni prima di arrivare a questo scontro diretto. Avevamo detto che poteva essere, come dire, istituito un centro antiviolenza per ragazze come Elisa, visto che è di così stretta attualità il femminicidio, la violenza sulle donne, poteva essere un gesto straordinario che avrebbe, come dire, pacificato, ripeto, non solo la mia famiglia, ma l'intera comunità. E la memoria, no? Esatto, esatto, anche la memoria, ma perché alla fine sono state disattese le parole stesse del Papa nella lettera che ha scritto a mamma. Nella lettera si riporta che quella chiesa doveva essere innanzitutto luogo di memoria per Elisa e invece ci ritroviamo una targa in latino in cui si celebrano le virtù pedagogiche di Domini Sabia che è il paroco su cui si addensano nubi, ombre, ambiguità rispetto a tutta questa vicenda. Io davvero, per me, è incomprensibile questo atteggiamento. Non riesco proprio a comprenderlo. Vogliamo sentire Massimo su questo? Vedevo che volevi commentare le parole di Gildo. Sì, io sono perfettamente d'accordo con il signor Gildo perché adesso il parroco Domini è deceduto e non si possono fare processi alle persone decedute, ma di sicuro, altro che ombre, c'erano indizi pesantissimi. Aggiungo non solo indizi di copertura, ma di altro. Il signor Gildo fa benissimo a cosa mi riferisco, il famoso bottone che fu trovato nei vesti, bottone che mancava dall'abito, dalla tonaca di questo signore. Ora, e sicuramente, diciamo, se non vogliamo coinvolgerlo dal punto di vista, come dire, di complicità, ma sicuramente non ha mai collaborato in alcun modo alla ricerca, anzi, l'ha ostacolata. È comunque un elemento che era sulla scena. Che quella chiesa, adesso la gente ci vada a preparare, dove si sono svolti orrori, dove un cadavere è stato lì ed è stato sicuramente nascosto. Ricordiamo che ci fu una telefonata in cui il viceparroco parlava di un cranio e l'arcivescovo dice di aver capito un ucraino. Siamo quasi al grottesco, ci sarebbe da ridere se non c'è niente da ridere in questa vicenda. Però, ecco, forse quella struttura religiosa andava utilizzata in un altro modo, per rispetto alla famiglia, per rispetto alla memoria, e anche a un'inchiesta che è stata una vergogna. Una vergogna dal punto di vista giudiziario, tanto che ricordiamo che la PM fu inquisita pesantemente per non aver fatto tutto quello che si doveva fare. Quella verità poteva emergere molti anni prima, a mio parere. Io non perdono chi ha fatto del male a mia figlia, dice in questa intervista la mamma di Elisa. Io ho sempre detto, la parola perdono è una bellissima parola. Nel mio vocabolario non esiste. Il perdono va coltivato, va saputo cedere e ci sono modo in modo. E poi a me non ha cesso perdono nessuno, nessuno. Ma il perdono per me non esiste, non esiste proprio. Non sono io. E chi sono io da perdonare? Non sono io. Il perdono lo devono chiedere a Elisa. A Elisa, neanche al Padre Eterno. Tutti coloro che hanno partecipato per quanto riguarda la storia di Elisa, che sapevano e che ancora oggi sanno, devono vivere il più a lungo possibile, seduta ad una sedia, e implorare realmente il nome d'Elisa, che non sono degni, ma il più a lungo possibile devono vivere. Solo questo, le dico. Il perdono. Non è per me il perdono. Sulla questione, è giusto quello che sta dicendo Gildo, noi chiaramente portiamo la testimonianza del fratello di Elisa Claps adesso in diretta e dice che forse quella chiesa avrebbe dovuto essere destinata ad altro. Ma infatti quello che colpisce nel dolore del fratello e nel dolore non superabile della mamma è che accanto alla tragedia della perdita della propria figliola si sono verificate delle situazioni, delle connivenze, delle coperture, dei silenzi, delle omertà che hanno come moltiplicato all'ennesima potenza il dolore. Perché è come se le persone si fossero rifiutate di accettare la gravità della situazione, di dare il loro contributo, di dare il loro supporto, di dare il loro pezzetto di verità che avrebbe potuto, come dice la mamma, aver risolto il problema tanti anni prima e avrebbe potuto fare chiarezza. Questa apertura di questa chiesa fatta in un modo così silenzioso, in un modo così nascosto, uso un termine di cui come dire mi rendo conto la pesantezza, questa riapertura fatta in un modo così colpevole, senza avere la capacità di dire è successa qualche cosa, facciamo un'ammenda pubblica, facciamo una cerimonia pubblica, chiediamo scusa a tutti, chiediamo scusa ad Elisa e vediamo di ripacificare il tessuto della città, è come se si fosse fatto finta di niente e più si fa finta di niente, più il dolore della mamma, più il dolore del fratello tendono ad aumentare e a diventare anche una sorta di rabbia, di rivendicazione. Voi non avete fatto le cose più elementari, quelle più logiche, quelle più basiche. Ma sono perfettamente d'accordo con quanto abbiamo proceduto. Gildo, se vuoi intervenire con quanto viene detto in studio, fallo. No, semplicemente per assolutamente sottoscrivere le parole che sono state appena pronunciate in studio. Esattamente questo, esattamente la riapertura in questo modo dimostra semplicemente chiaramente la responsabilità e la vergogna a riaprirla in quel modo perché ovviamente senza un passaggio, perché prima mamma insomma parlava di perdono nell'intervista, ma nessuno ha mai chiesto scusa per chiedere e soprattutto ci ha mai chiesto come dire, il perdono. Non c'è mai stato questo passaggio né da parte di chi ha fallito dal punto di vista investigativo né da parte della Chiesa con quest'ultimo atto della riapertura. Scusami se ti ho interrotto, Gassani. Io credo che appunto la stessa comunità ecclesiastica e chi di dovere dovrebbe prendere atto che è difficile per un fedele entrare in una Chiesa andare a pregare dove è successo un crimine così efferato. È la logica, il buonsenso. Molte volte questo è un Paese che manca di logica, il buonsenso. E soprattutto di rispetto verso questa famiglia. Quindi questa Chiesa, anche se l'autorità ecclesiastica non dovesse intervenire, è già sconsacrata dalla comunità. già non esiste più quella Chiesa, è solo un ammasso di mattoni, è meglio che se lo mettono in testa perché solo così si può restituire un qualcosa alla famiglia Claus. Edoardo, a te. Esatto, Eleonora, eccoci. Allora, dobbiamo lasciare Gildo. Adesso partirà questi passi. Ciao, ciao. Grazie, grazie. Grazie a te. Grazie a tutti. Questo corteo sempre più nutrito perché Potentini ne sono arrivati tantissimi oltre a noi giornalisti sono veramente i passi di Elisa. Speriamo Gildo veramente verso la verità con Ulderico Pesce che ha organizzato questa manifestazione, ha portato questa croce ma Eleonora sono importanti anche queste scarpe, queste scarpe traforate, come un po' andavano all'epoca che erano le stesse che portava Elisa che tanti Potentini hanno voluto donare. Hanno un significato e andremo fino alla Chiesa della Santissima Trinità. tra pochissimo il corteo partirà tutti insieme proprio per cercare una verità piena per Elisa.